This is unboxing time! Addirittura in inglese così? Anche musicali, inglese e musicale ragazzi, non abbiamo più confini nei frontiere. Il tamburello, questo è il suolo della metalbonna quando impatta. Non abbiamo un cutter ma abbiamo le forbici. Un cutter. Oggi siamo international. Pacco, che arriva non dalla Cina ragazzi, non dalla Cina, ma arriva direttamente da Main Paddle. Cos'è Main Paddle? Il sito dove trovate tutte queste cose. Cos'è Main Paddle? Il sito di riferimento, dove trovate tutte queste cosettine qua, dove trovate le lacchette, magliette, tutto ciò che noi indossiamo e vestiamo e giochiamo. E c'è il nostro codice sconto, Paddle Lovers, tutto maiuscolo, 10% di sconto. Ma andiamo a vedere cosa c'è detto. 10% di sconto su tutta la nuova collezione e anche sull'abbigliamento. Ragazzi, lo ripeto un'altra volta, il 10% di sconto su una racchetta che costa 300 euro, sono 30 euro. E lui che fu commercialista. Da quando ero piccolo. Vuol dire che sono tre partite offerte da Main Paddle. Vi sembra poco? No, dico. Apri, 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 perché siamo curiosi. Importante, ho preso proprio il diretto. Vediamo. Allora, che cosa c'è secondo vos? Secondo vos? Ehi, ehi. Porca puttana. No, no, no. Porca miseria. Ho detto una parolaccia, se vuoi dire parolaccia? Porca miseria. Cominciamo da? Cominciamo da? Cominciamo da una cosa più semplice. Questa? Vai. Bull Paddle. Bull Paddle. Saranno la stessa racchetta, racchetta? Vediamo un po', cosa ho io. Tu che c'è? No, vabbè. Non è possibile. C'hai la numero uno. Estaticamente è molto, molto bella. Cambia qualcosa. No, le numero uno. Marco, c'è la numero uno, io non volevo essere da meno. E quindi... E quindi... Ta-ta-ta-ta-ta. Bull Paddle Elite di Gemma Tria. E ricordate, era tipo Havana? Che quello era l'anno scorso? Sì, era tipo un senave beige. Questa è bella, liscia. Ragazzi, piatto liscio. Molto bella, leggerissima. Proprio leggera in mano. Perché questa è veramente molto, molto leggera. Tu che c'hai, Daniel? Io ho la flow di chi è? Di Alejandra Salazar. Ragazzi, esteri. La forma... Questa è proprio un classico diamantato. Lei dice ibrida, ma per me è proprio un classico diamantone con la piccola tuta qui. Questa è già un pochino più ibrida. Anche lei comunque la forma è leggermente a diamante. Non andiamo a spoilerare le caratteristiche tecniche perché faremo un video dedicato a entrambe le pale. Questa ha già una ruvidità comunque leggermente diversa rispetto a questa qui, che è completamente liscia. Non è la ruvidità della Vertex, quindi non è quel sabbiato. È un rilievo molto fitto. Pensate che un giorno ci vestiremo da numero uno. In coppia di... Allora, ragazzi, scrivetemi qua sotto. Quale dovrò indossare io di racchetta? Quale danni? È la flow o la elite? Lo sai che questo è fighissimo. Il disegno dei piatti è veramente bello perché è tipo mezzo floreale, mezzo bello. Beh, stavolta a Bulpate non mi è piaciuta la linea maschile, diciamo, 2022. Femminile mi piace. Molto, molto carina. Sì, eppure essendo un femminile questo è 363 grammi. Ma il manico è più lungo? Non proprio leggerissimo, dovrebbe essere 13 centimetri. Il manico è più lungo, il Gemma l'ha voluto più lungo. Vediamo un po'. No. Se è leggermente più lungo. Attenzione, questa è la prima sorpresa. La flow è cambiata totalmente rispetto alla linea dello scorso anno. È proprio stata fatta appositamente per Alejandra. Alejandra? Alejandra. Abbiamo un po' sottovalutate le nostre donne. Bilanciamento qui specifico, bilanciamento medio, al tatto è molto leggera, una gomma black Fibrix multi-eva, la classica di Bulpatele, che sarà sicuramente le due strade esterni più quella interna. Non diamo specifico. Mi piace. Mi dico che ti tratto male e poi facciamo dire. Ti senti toccato. Assolutamente no. Quanto ti senti toccato. Anzi, per farti vedere che no, questa qui la tiro fuori io. Ragazzi, no. Una petizione, tratta meglio Marco. No. Firmatela insieme a me. Scrivete cosa. Dovrei mai tirare fuori un tanto l'impacchetto, questo è veramente bello. Allora, intanto no. La tiro fuori, ma... Ma. Ma. Ecco, questa qui, qui c'è un argomento molto ampio da aprire. Secondo me questa è la racchetta. Lasciamola per ultimo. Quella dopo è la più bella che c'è, esteticamente. Però mi hanno fatto arrabbiare. Questa qui, già la sapete, già la conoscete, non sporiamo tanto. La Nox Limited, questa qui, ragazzi. Già l'avete vista, già l'abbiamo sporato, già l'abbiamo riflessita e tutto quanto. Questa qua la trovate sempre su Main Paddle in offerta, ragazzi. La Nox Limited di Tapia. Il giocatore che quest'anno ha grandi numeri. E poi... Dan 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 dan. Qui c'è un grande riferimento, cioè da parlare. Si parla di leggende, ragazzi. Allora, qui... Si parla di leggende. Quanti... Posso parlare tanto? No. Posso parlare tanto, perché qua c'è da parlare tanto. Allora. Mi hanno detto l'altro giorno, parlando, sai, queste chiacchierie da bar. Il pick-ball. Il pick-ball va in America. Se va in America, in Italia andrà tantissimo. Sapete dove è andata questa leggenda qui a giocare? Al primo circuito americano. Hanno fatto otto squadre, si chiamano tipo le squadre dell'NBA. Miami Lake, Los Angeles Lakers, Miami Heat, queste cose qui. E fanno il campionato americano. Ragazzi, il Paddle sta esplodendo anche negli States. E se esplode lì, è finita. Chi hanno preso? Seba. Hanno preso tante leggende come Marta Marrero, come Seba Nerone. E li stanno facendo giocare lì. Devo dire che a me non potevo. No, Dani, non poteva perché soffre il mal d'aereo. Però se no sarebbe andato volentieri. L'hanno chiamato da Los Angeles o Miami? Miami. Miami. E poi il mare, sai, vicino a Sabah. Lui è un po' più verso le Bay, Key West, Bahamas. Comunque, dicevamo, leggenda, il Paddle sta per noi negli Stati Uniti. E lo hanno fatto, Adidas, questa racchetta appositamente per lui. Ed è arrivato lì a giocare. Allora, partiamo dal... Ok. Il pacco. Un po' scarno. Cioè, un pochino mi aspettavo qualcosa di più. Mi fate sempre questi pacchetti. Vabbè, ma è un po' scarno. Siamo subulpatele. A numero uno al mondo ti dà la busta di plastica. Eccola, ragazzi. Eccola. La Legend dedicata a Seba Nerone. Adi Power Legend. Gomma Evadensi di Soft. Allora, quando abbiamo fatto il video delle Adi Power abbiamo detto ci suona strano che la Adi Power, la classica, non venisse firmata da Seba Nerone. La gialluna. Quella blu. La gialla era. Gialla blu era. Vedi che poi, vedi che poi, vedi che poi uno si incazza, si incavola con te. E abbiamo detto, ragazzi, sicuramente Adidas farà qualcosa dedicata a Seba. Ed eccola qua. Allora, ragazzi, eccola qui. Ve la faccio vedere perché questa merita... Pesa, eh. Pesa, si sente che pesa, ma Seba non è che c'ha il braccio. Chi lo ha visto giocare non è che c'ha il braccio piccolo. Prima differenza, la prima cosa che si nota, qual è Daniele da quell'altra, dal gialluna? Che è oro. È oro. E questo è fin qui ci siamo. I pesetti è la D-Power classica, non è la multi-weight, quindi non c'è possibilità di cambiare bilanciamento o altro. Perché... Comunque queste è un po' a rammollite, eh. Che senso? Si sente che pesa 365 grammi, grazie. No, io la vorrei... Tazzo. Eh, questa è 349. Ma se mi ha detto, la vorrei pesata 365, la vorrei... Allora, seguiteci perché secondo me è una grossa bugia questo peso. Cioè, se sente che la devi tenere in mano, dai. Ma capite perché lo tratto male? Eh. Allora, non te. Comunque, per Daniele Leggera, per me al tatto si sente che è un pochettino più pesante. Allora, fateci sapere qui sotto, nei commenti, questo lo sapete, è un video unboxing rapido, veloce. fateci sapere qui sotto nei commenti quale volete che portiamo prima. Ovviamente queste le porteremo in coppia, questa qui, oppure qualche altra cosa. Fai a dove lo pare, ragazzi. Un confronto. Un confronto tra queste due. Un confronto. Dove le trovate queste racchette? Su Main Padre. Seguiteci su Instagram. Padre, latino basso. Lover, latino basso. Italia. E... Vamos!